piedi piatti piedi piatti poi sai piedi piatti con due grandi mostri sacri perché pozzetto e montesano che io amo particolarmente devo dire sono amico nella vita di montesano ed è uno straordinario attore una persona di grandissimo livello devo dire lavorare con lui l'idea di strillarlo di dirgliene quattro era un divertimento straordinario e quindi quando facevo questo questo suo capo capo ufficio insomma il responsabile che lo trattava male era un divertimento devo dire che poi chiaramente nei film non viene montato tutto quello che si fa ma quelle scenette in cui io gliene dicevo di tutti i colori erano molto più lunghe ci siamo divertiti tantissimo ci dovevano fermare era molto carino veramente molto carino poi io con montesano ho fatto altri film e devo dire c'è sempre stato questo gioco insieme di grandissimo divertimento per un po di anni ho fatto la voce di gatto silvestro e quindi molti di quelli che mi seguono che insomma stanno guardando magari questo video o qualcuno di quelli che stanno guardando questo video da ragazzino si è divertito con le stupidaggini che facevo sul gatto silvestro devo dire che per me quella è stata una grandissima gioia perché io in quei tempi avevo mio figlio che aveva sei sette anni otto anni e quindi l'idea che vedesse suo padre in una situazione così divertente così stimolante come il gatto silvestro era motivo di grande orgoglio di grande piacere doppiaggio mi ha dato moltissimo ho fatto tante cose nel doppiaggio però ho fatto sì che non fosse mai solo l'unico lavoro perché io non credo nella specializzazione l'attore deve fare tutto quindi non mi piace parlare di doppiatori ma mi piace parlare di attori impegnati nel doppiaggio io ho sempre fatto cinema teatro televisione doppiaggio al doppiaggio come ho detto devo moltissimo perché poi l'idea che tu possa crescere tuo figlio con il danaro guadagnato con finché le stupidaggini che ti inventavi da ragazzino davanti allo specchio con i versacci che facevi è un grande privilegio è i simpson io ero legatissimo purtroppo poi un personaggio che è finito perché è veramente morto il personaggio ma gengive sanguinanti marfi è un cult vero perché era un personaggio straordinario nei simpson mi piaceva tantissimo fare